Salve e buonasera. Oggi andremo ad aprire un po' di pacchetti. Causa sciopero di SDA, si sono accumulati ed arrivati tutti nella giornata odierna. Sommeggendomi, come potete vedere. Ma andiamo ad aprire insieme. Cominciamo dal primo pacchettino. Troviamo un caricatore per cellulare a due porte, entrambe da 1A, con il suo cavetto. Passiamo oltre. Qui troviamo una sveglia. Il suo piccolo manuale di istruzioni. E il vano a batterie. Tre batterie di tipo AAA. Passiamo oltre. Un piccolo astuccio va alla borsello. In cui possiamo farci stare uno smartphone della sua misura. Semplice. Chiusura magnetica. Anche questo via. E qui troviamo qualcosa di Natale. Bell'alberello. 240 LED. Le luci di Natale, anche queste a batteria, utili come decorazione dell'albero o della casa durante le festività. Manca poco a Natale, si torneranno utili. Andiamo a provarle. Queste lucine necessitano di tre batterie di tipo AA. Andiamo ad inserirle. Modalità fissa. E intermittente. Semplici lucette. La sfera è bianca opaca. Quindi avremo questo effetto di luce calda. Che durante le fredde serate di dicembre daranno un po' di calore. Mettiamo un po' di calore. Prendiamo per un attimo la sveglia, così l'accendiamo e proviamo com'è. Proviamo a vedere com'è. La sfera è un po' di calore. Grazie a tutti. Ok, finalmente è entrata. È illuminata, così durante la notte sarà visibile, mostra la temperatura, la data, gli allarmi, il giorno, dà la possibilità di impostare due allarmi. Tutto qui. Abbiamo fatto un po' di fatica ad inserire le batterie che adesso andremo a togliere. Mettiamola via. Capiamo il prossimo pacchetto. Grazie a tutti. Mettiamo cosa troviamo. Un ripiano porta carta igienica porta smartphone. Gli smartphone ci seguono ovunque. Mentre siamo in bagno abbiamo dove riporlo. Le viti per montarlo. Molto semplice. Mettiamo anche questo. Passiamo al prossimo. Qui troviamo matite colorate. Ne ho già altre che sono due. Ora per variare prendiamo un pacchetto più grande. matite di diverso tipo. Questa punta è già rotta però è normale durante il viaggio specialmente questo periodo. Questa punta sottile, 2H, 3H, 4H, 5H, B, 2B, HB. Quindi ne abbiamo un bel po'. Questa invece si è spezzata. Peccato. Se è proprio quella a cui si è spezzata la punta. Le chiudiamo prima che si rompa del tutto. dentro. Abbiamo ancora dei tubetti di colore acrilico da 12 ml in uno. in totale 24. Abbiamo diversi colori. Bianco titanio, giallo limone, giallo ocra, scarlatto vermilio, verde smeraldo. Un bel po'. Un bel po' di colori per divertirci. L'interno. Fine. Andiamo col prossimo pacchetto. Continuiamo con uno grande. Qui c'è un bel po' di roba. Questo è un reggiseno. in silicone. Autoadesivo. Che permette un effetto push up attraverso questo laccetto al centro. Stringendolo permetterà di avere un effetto più adocchiabile. Passiamo oltre. A fare i foglietti. Webcam. Compatibile con Skype, Android TV e Windows. Webcam 720p. Vediamo subito cosa c'è dentro. Poi di questa ne farò un video a parte per mostrarne la qualità. Manuale di istruzioni. Davvero minimale. E questa è la webcam. Un po' di polverata. Chissà da quanto tempo stava in magazzino. USB. HD 720p. Chissà se sarà realmente HD. Ma lo vedremo in un prossimo video. Mettiamo da parte. Via. Via. Vediamo che altro troviamo all'interno. Fogli. 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 Filtri. Filtri. Filtri per l'umidificatore. Che avevo preso qualche giorno fa. Esattamente questo. Un umidificatore per auto. Si attacca alla presa accendita. Fogli. Fogli. Qui dentro ci va l'acqua. E all'interno. Troviamo. I filtri da cambiare. Molto semplice Non fanno nessun odore Abbiamo anche una presa USB Che ci permetterà di caricare qualche device Mettiamolo direttamente dentro E lì anche questo Dentro c'è ancora qualcosa? Sì Smart Budget Expert Un Fit Tracker Spento ovviamente Sarà scarico Vabbè La panorita è a iOS Mettiamolo direttamente Scuso? Sì Questo attacchetto è finito Passiamo a tre Un binocolo per i bambini Serviette per ripulire Fidiamo oltre Fidiamo oltre Fidiamo questo Ok Questa è qualcosa che deve essere messo dietro Oggetto misterioso Ora l'ultimo pacchetto Più grande Altre mattite colorate Identica quella di prima E una lavagnetta Due lavagnette Allora Fine Tutto qui Abbiamo messo un po' di caos Con tutti questi pacchetti Ma alla fine li abbiamo aperti tutti Non mi resta che augurarvi buona serata E alla prossima Grazie